Partiamo da Pineto come luogo di osservazione privilegiata, ma il discorso vale per tutto l'Abruzzo. Insensate opere dell'uomo, pennelli antierosivi che in realtà producono erosione della costa, ripascimenti che distruggono il sistema delle secche, quindi hanno effetto erosivo. Nel caso specifico di Pineto l'insensata folle rimozione della ghiaia hanno determinato la scomparsa di una parte di arenile nella zona di Pineto Nord. Conseguenza dell'opera dell'uomo, potremmo parlare di erosione artificiale indotta dall'opera dell'uomo. Disastro ambientale e poi, direi, disastro per le casse dell'erario. Tutto accade perché la regione Abruzzo ha ancora in vigore piani di intervento che risalgono al 2001 e sono superati. Non solo dagli studi più recenti fatti dal Ministero, ma anche dalla prova dei fatti. Abbiamo visto come a Cologna abbiano dovuto rimuovere i pennelli che produce un'erosione. Ebbene, dopo la mareggiata di febbraio a Pineto è stato addirittura ristrutturato e rinforzato il pennello che è causa principale dell'erosione. Si prevede ora una spesa, il Comune, solo per iniziare dei lavori, altri 19 pennelli che produrrebbero la completa distruzione di tutta la spiaggia. In questo caso l'erosione si andrebbe a spostare a Pineto Sud. Il tutto per costi milionari che potrebbero assumere rilevanza come danno erariale e quindi condurre, quello che abbiamo denunciato appunto, ad un'azione di responsabilità contro i funzionari della regione che continuano a sostenere questo tipo di interventi. Grazie.